bella ragazzi mi sono appena svegliato sono le 8 e 36 di venerdì 24 settembre e questo iphone ha suonato la sua ultima sveglia perché come avete letto nel titolo verrà sostituito oggi tra un'oretta dall'iphone 13 pro max ebbene sì ragazzi circa sette giorni fa sono riuscito ad acquistare nel giorno ufficiale del preordine dell'iphone 13 il mio iphone 13 pro max azzurro sierra ho sclerato come non mai il sito dell'apple era totalmente crashato ma sono riuscito a prenderlo in videochiamata con il mio amico francesco dall'app della apple perché volevo essere uno dei primi per portarvi poi questo video quasi per primo quindi oggi è arrivato finalmente il giorno tanto atteso dove dobbiamo andare a ritirare come dice qui l'ordine in apple piazza liberty il nostro iphone 13 pro max azzurro sierra andiamo fino ad ora ho preso un sacco di iphone ma non mi era mai capitato di prenderlo il giorno dell'uscita ufficiale dall apple store di piazza liberty quindi ragazzi sono un po emozionato ma detto ciò andiamo e vediamo chi incontriamo la cosa succederà seguite il video ok ragazzi ora aspetto che arrivi francesco e poi possiamo andare quindi ci vediamo tra poco ma chi si vede bella fra come stai carico carichissimo dai detto ciò andiamo andiamo che c'è già qua la metro andiamo siamo sento già l'odore di altri che ragazzi siamo arrivati ora in piazza duomo e non ci rimane che andare all'apple piazza liberty che è dritto di là la scorga bene sì ragazzi sono le nove e quaranta siamo arrivati alla apple raga abbiamo l'appuntamento alle dieci e mezza però meglio arrivare prima sai com'è con le varie cose magari precauzione ok ragazzi abbiamo parlato con il signore della apple e ci fa che dobbiamo aspettare il nostro turno e poi andare a quel gazebo là quindi aspettiamo per le dieci e mezza riguarda ci vediamo dopo e ritiriamo il nostro iphone 13 pro max azzurro sierra e il suo iphone 13 pro azzurro sierra attenzione ragazzi siamo entrati ci siamo i primi ragazzi praticamente si sei fra? ok ragazzi siamo dentro le post store e ora dovrebbe arrivarmi ecco mi è appena arrivato per lui in diretta il mio iphone 13 pro max azzurro sierra raga poi lo unboxeremo a casa e lo vedo l'ora let's go ebbene si eccoli li han presi raga poi lo unboxiamo appena arriviamo a casa quindi seguite perchè sarà un unboxing di qualità che me lo girerà fra quindi ok spoiler postato su insta per quelli che mi seguono su insta se ancora non mi segui corri a seguirmi chiaccio la rimoldigno che posto gli spoiler di quello che faccio quindi sapevate già che ho comprato l'iphone 13 pro max azzurro sierra ok ragazzi adesso direzione casa di fra dove andremo ad unboxare gli iphone e farveli vedere e quindi ci vediamo dopo ebbene si ragazzi eccoci eccoci qui a casa di fra per unboxare i due iphone l'iphone 13 pro azzurro sierra e l'iphone 13 pro max azzurro sierra ragazzi l'abbiamo scelto entrambi della colorazione azzurra perchè è la colorazione che apple ha lanciato nuova grazie e volevamo provarla e io non vedo l'ora di aprirlo sinceramente cioè ce l'ho qui davanti da un bel po' l'ho già visto l'ala apple me l'ha fatto vedere il signore che me l'ha venduto e wow cioè wow adesso vedrete se non l'avete già visto di cosa si parla per questo video direi ragazzi come minimo 10.000 mi piace lasciate tutti un like ora iscrivetevi al canale mi raccomando se ancora non l'avete fatto e senza cincischiare andrei proprio all'unboxing andiamo adesso qua andiamo adesso qua ognuno apre il suo 100 euro che si staccano anche 200 ok uuuuuh 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 stupendi messi così via via la scatola tutta via ovviamente tutta mamma mia ragazzi che spettacolo questo azzurro ero indeciso raga anche fra era indeciso però è veramente assurro anche i bordi che è diverso da come si vede qua eh esatto guardate cioè è strano questo è molto più chiaro esatto è più raffinato poi mamma mia ragazzi allora il pro max me lo aspettavo grande e però è bello tosto non sta del lavoro però lo volevo proprio così perché lo uso per lavoro e tutto e mi serviva quello grande un momento che tardi qua cosa? ti rievo la pelicola mi rievo gli anelli addirittura per forza se no arrivo tutto allora ragazzi pellicola un momento tanto atteso ragazzi è meglio di non diciamo non diciamo non diciamo lascio già le ditate che bello raga però è veramente spettacolare accendiamo ragazzi allora dentro in dotazione c'è come sempre lascio un attimo qua l'iPhone pin per togliere la sim e una sola mela ragazzi sempre a risparmio si va a cogliere non c'è neanche il power bank c'è il power bank l'alimentatore ma c'è solamente il cavo vediamo un po' questo schermo con la riduzione della barra in alto vediamo un po' scambale ok fino a qua è tutto normale signori la mela c'è la mela c'è ragazzi ebbene sì io passo da un modello che è il 12 Pro adesso ve lo faccio vedere qua ragazzi dal 12 Pro al 13 Pro Max ragazzi guardate la differenza delle telecamere è qualcosa di assurdo non so se rende dal video ma sono doppie fotocamere ok ragazzi non lo configuro qui nel video sennò verrebbe una roba lunghissima però vediamo solamente mamma mia il noce è assurdo il noce è più piccolo è bellissimo fa in confronto spegnilo ok raga guardate eh no non si era venuto già cioè raga guardate qua è molto più piccolo molto più piccolo e poi si è spostato sul è vero si è spostato sul cose del telefono e quindi raga tanta roba cioè nelle mani lo sento subito tutta la differenza è che questo è un gigantero però tanta roba detto già ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto non vi sto a elencare qui tutte le novità dell'iPhone perché ragazzi cioè ormai le avete già viste riviste fotocamere nuove cinematic mode e tutto ma se volete anche un video dove lo provo dove lo uso mi raccomando commentate qui sotto che vi leggo tutti nei commenti ragazzi mi raccomando link in descrizione anche del video di Fran e del suo canale raga andatelo a vedere perché ha una qualità assurda cioè questo studio l'ha messo tutto in ballo lui detto ciò ragazzi vi mando un salutone e un bacione dal vostro rimodino e da Fra è tutto bella ragazzi grazie a tutti